Un'altra preparazione che possiamo fare con le uova sono le uova sote. Per fare un uovo soto dobbiamo mettere dell'acqua a bollire, in cui mettiamo l'uovo quando l'acqua non bolle, quindi quando l'acqua è fredda. Lo immergiamo. Un trucco che mi hanno insegnato è che per sbucciarlo meglio quando poi è cotto, basta aggiungere un pizzico di sale nell'acqua di cottura dell'uovo. Quando l'acqua inizia a bollire dobbiamo aspettare 9 minuti e dopodiché possiamo scolare l'uovo ed è pronto. 9 minuti sono precisi per fare un uovo soto. Allora, sono passati 9 minuti, tiriamo su l'uovo, lo mettiamo sotto l'acqua fredda, in modo che non sosteniamo le tira per sbucciarlo. Quest'operazione viene meglio se le uova sono calde. Rischiate un'ustione di 72 grado alle mani, però è molto più facile. Le uova più sono fresche e meglio si sbucciano. E poi quando fate le uova sode avete la possibilità proprio di controllare la freschezza delle uova perché, vedete, se l'uovo è completamente intero e non ha, come si dice, conche né sopra né sotto, vuol dire che non ha entrata aria e questo ci sta a significare che l'uovo è stato deposto da poco. Con un coltello lo tagliamo a metà, eccolo qua, e sodo, sale, e olio. Un po' troppo. Beh, questo era un uovo alla Bad di Velastro, che quando dice che mette un boccio d'olio ne mette un litro. E devo dire che però anche così sarà molto buono, dato che l'olio che ho oggi è molto saporito. Ciao! Ciao!